Buongiorno a tutti, sono le 9.08 e la registrazione è stata appena avviata. Facciamo l'appello, chi ha bisogno della giustifica, me lo comunica. Delivo? È presente. Alle Ori? Buongiorno, presente dalle 9, con giustifica, grazie. Benissimo. Angelini? Bellassai? Presente. Correlli? Buongiorno, presente. Buongiorno, Cerisola? Buongiorno, presente, con attestazione, grazie. Benissimo, Baccari? Presente, sono presente, senza attestazione, grazie. Va bene, richiamo per la seconda volta Angelini. Presente. Perfetto. Bene, grazie Caterina. Possiamo cominciare. Il primo punto dell'ordine del giorno sono due verbali. Il verbale di ottobre l'avevamo già tutti quanti controllato, se vi ricordate, io avevo soltanto un dubbio su un punto che riguardava un'affermazione fatta dagli uffici riguardo ai punti istruttori. Li ho chiamati, ho verificato che era corretta l'informazione sullo verbale, per cui ditemi se volete, lo rileggiamo ulteriormente, però insomma per me va bene così com'era, perché l'avamo già letto. Quindi stiamo parlando... Sì. Bene. Perfetto. Va bene. Quindi tolgo la parola in grassetto perché l'avevo lasciata per... Sì, certo, certo. Va benissimo, a posto. E questo lo approviamo oggi. Perfetto. Passiamo al secondo che io non ho proprio visto, che adesso lo metto sullo schermo. Condividi. Schermo. E questo qua? E questo qua, no? Allora, è la riunione del 3 novembre, lo vedete tutti? Lo vedete? Sì, sì, Patrizia. Ok. Allora, l'anno, il giorno... Patrizia, scusami, ho parlato con Luisa Laurelli, tra due secondi si collega. Perfetto, lo facciamo velocemente questo verbale. Parliamo della... Era il verbale in cui avevamo il piano sociale del 2023-2025, con tutte le slide presentate il giorno di ottobre, della prima riunione del piano sociale. Il piano sociale in questo momento è la metà del tempo. Non so chi sta arrivando nella riunione. Allora... Luisa. Perfetto. Allora, la Presidente, dopo aver constatato il numero legale 9-10, dichiara ufficialmente aver trastituta, convocate per il 9, bla, bla, bla. Il Presidente prosegue con il secondo punto all'ordine del giorno, il bilancio sociale, tavole di concertazione e calendari, con una breve introduzione sull'argomento, sottolineando che la giornata del 26 è tenuta la riunione dell'Assemblea plenaria per l'avvio dei lavori di predisposizione del nuovo piano sociale in Municipio 9, durante la quale sono stati discussi documenti importanti e sono interventi le associazioni e l'ASL Roma 2. Allora, al tavolo tematico ha partecipato la Presidente, alcuni membri della Commissione 1, Baccari, Angelini e Borrelli. No, come al tavolo tematico? Non abbiamo partecipato al tavolo tematico. Qua è sbagliata questa frase. Alla riunione. Alla riunione. Va bene. Alla presentazione. Bravo, grazie. Alla presentazione dei tavoli tematici. Va bene, va bene. Alla presentazione dei tavoli tematici. Hanno partecipato. Bene. La Presidente della Commissione, Baccari, Angelini e Borrelli, ma c'era anche Fulvio, vero? Fulvio era lì? Sì, come no. Va bene, va bene. Scusate perché ho fatto un pezzo. Allora, Baccari, vedi. Non so chi altro c'era. C'era Muro Pess. C'era Muro Pess. Esatto. Muro Pess. Grazie, grazie. Borrelli e Muro Pess? Sì, sì. Baccari, Angelini, bella sai. Borrelli e Muro Pess. Va bene. Perfetto. Sono stati individuati quattro, no? Sono cinque i tavoli tematici, perdonami. Eccomi, eccomi. Manca un tavolo. Sì. E il tavolo è quello di Paola, Paola, come si chiama? Dico subito. Il tavolo è sulla contrasto alla violenza di genere. Ah no, l'ho scritto sotto, scusate. Ho sbagliato perché... Ah, eccolo sì, inoltre è stato avviato un nuovo tavolo di contrasto, va bene, va bene. Va bene, va bene, scusatemi. Contrasto alle violenze di genere LGBT. Allora, io però scusami, inoltre è stato avviato un nuovo tavolo di contrasto alle violenze di genere, virgola, LBGTQ+, perché non è che è soltanto sulle LBGT, è proprio un contrasto alle violenze in generale. Quindi va bene che ci hai aggiunto anche l'LBGT, ma metterlo a virgola perché altrimenti sembra che sia solo quello. Certo. Il primo tavolo partirà il 9 novembre, ogni tavolo sarà presente un coordinatore, lo Presidente chiede all'assessora presente e a conclusione dei tavoli con quale atto si trasformerà il piano sociale del municipio in un documento ufficiale. L'assessora premette che la legge dello Stato 328-2000 disciplina la progettazione e la coprogettazione della pianificazione sociale. Attualmente l'assessorato centrale non ha fornito un'indicazione univoca e considerato che la legge, sopra citata, indica che i piani sociali di zona compongono il piano sociale cittadino, sarebbe utile che l'assessore comunale fornisse indicazioni sulle modalità di riavvio di questa forma di progettazione, con una tempistica uguale per tutti i municipi che hanno iniziato a lavorare sul piano sociale. Naturalmente la programmazione implica risorse adeguate nel settore dei servizi sociali che troppo spesso non godono di una gestione finanziaria che corrisponde nei tempi alla gestione effettiva dei servizi. Tutte le risorse ottenute in sede di bilancio preventivo 2022 sono state impegnate con rimodulazioni della spesa che hanno garantito l'erogazione dei servizi fino alla fine dell'anno. Nel bilancio di quest'anno sono state assegnate risorse aggiuntive per disabili e anziani garantendo il servizio di assistenza e l'abbattimento delle liste di attesa. I tavoli municipali partiranno dal 9 novembre 2022 e si concluderanno a gennaio 2023. Si svolgeranno con tre riunioni ciascuno e in questo primo momento, prettamente tecnico e di ascolto, saranno coordinati dagli uffici. L'assessora sottolinea l'importanza di lavorare sulla comunicazione in modo da raggiungere il maggior numero di persone possibile. Sottolinea che non ha intenzione di realizzare un piano sociale copia e incolla dei piani precedenti. Una parte importante nel contributo alla pianificazione sarà rappresentata dall'OSS, a cui l'amministrazione attuale effettuerà una sorta di rendiconto. L'assessora sottolinea di non conoscere il modo in cui l'amministrazione centrale intenderà effettuare l'omogenizzazione di servizi su tutta la città, tenuto conto che i diritti sono esigibili su tutto il territorio nazionale e nessuno dei municipi può pensare di organizzare i servizi che riconoscono i diritti dei cittadini in modo differenziato. Pertanto viene opportuno riunificare indirizzi di carattere generale validi per tutta la città. La consigliera Vaccari interviene osservando che per la prima volta nel piano sociale municipale è stato inserito il tavolo di contrasto alla violenza. In un momento in cui ci sono verificati molti casi di violenza, occorre sensibilizzare la popolazione del territorio per evitare il ripetersi di questi episodi. Il consigliere Borrelli concorda e aggiunge che i partecipanti alla realizzazione del piano sociale hanno svolto e stanno svolgendo un lavoro molto vasto e importante. Pertanto ritiene utile la partecipazione ai tavoli dei consiglieri della Commissione. Osserva che dopo la pandemia ci troviamo in una fase di ripartenza con le nuove sfide che questo comporta. Il consigliere Cerisola ringrazia l'assessore per il lavoro svolto osservando che anche per i prossimi anni è importante che vengono assegnati fondi in bilancio per non comprimere le spese inerenti ai servizi sociali. Il piano sociale è uno strumento quadro che traccia le linee di impegno municipale per l'erogazione dei servizi. Assumerà la forma di un atto consigliare approvato con apposita delibera. La Presidente condivide le slide con la Commissione in cui oltre alla definizione dei tavoli e delle date di svolgimento degli stessi viene evidenziato il segretariato PUA come primo punto di incontro tra le persone, il municipio e l'ASLA. Nelle slide vengono indicati gli obiettivi destinatari e le sedi. Segue visione e analisi di tutte le slide condivise nei servizi sociali del municipio Roma 9 Euro e dell'ASLA Roma 2. La Presidente prosegue con l'esame della posta, trasmessa dalla Presidente VCCP politico e sociale della salute. Che vuol dire VCCP? Quinta Commissione consigliare permanente. Mamma mia, va bene. Quinta quella. Oggetto, piani sociali di zona, coprogrammazione, coprogettazione e formazione. La Presidente parteciperà all'incontro del 7 novembre e inoltreerà la nota al direttore di ESEI. Mi sa che non era quella nota, non ricordava i piani sociali di zona. Sì, sì, ho copiato l'oggetto, quindi di questo sono certa. Ok, va bene, grazie Caterina. Prego, prego. Mi sembrava un altro argomento, però per le varie eventuali Presidente informa la Commissione che non ha ancora ricevuto la Direttora Picaio la documentazione per il piano perda municipale a quale saranno inviati, invitati, non inviati, la consulsa della servita e l'Unione Cechi. Inoltre non ha ancora ricevuto la Roma Agenzia per la Mobilità la nota indicante della dislocazione sul territorio degli impianti semaforici dotati da dispositivi acustici. In realtà non era Roma dell'Agenzia della Mobilità, che era dal sito dell'Unione Cechi, che però non funziona, che non riesco a, non riesco a, non sono riuscita proprio ad acquisirlo quel file. Quindi sostituisco Roma Agenzia per la Mobilità e inserisco... Non ancora, sì, con UIC Roma, dal sito UIC Roma. Dal sito UIC Roma. Ok, perfetto. Allora, inoltre non ha ancora ricevuto dal sito UIC Roma la nota indicante la dislocazione sul territorio degli impianti, va bene. Non c'era, ma non funziona proprio il sito, quindi. Il consigliere Cerisola chiede ai tempi per la disposizione del bando sulla donazione del sangue e la possibilità di inserire nel protocollo d'intesa un'associazione che ha organizzato la donazione sangue nel nostro municipio, parcheggio di via Creta Carbo 13. Marco, parcheggio di via Creta Carbo 13, nel parcheggio, che ha organizzato la donazione nel parcheggio. Marco? Sì, eccomi, allora, dunque, era girato un volantino un anno fa, di questa si è organizzata nel parcheggio. Non ti ricordo il nome, non ti ricordo il nome. Ma non c'era scritto il nome nel volantino, non c'era il nome dell'associazione. Ah, va bene. Allora tolgo le parentesi e metto nel parcheggio di via Creta Carbo 13, va bene? Sì, sì. Va bene, va bene. Il Presidente informa che i servizi sociali hanno comunicato di provvedere a disposizione un nuovo avviso pubblico tra novembre e dicembre dell'anno in corso per rinnovo del protocollo d'ingresa. No, che hanno comunicato di provvedere, sì, però poi in realtà non è stato fatto, va bene. Il Presidente al termine degli argomenti alle ore 11.10 chiude e dichiara chi sarà seduta. Ci sono altre correzioni da fare? Per me no. Anche per me no, grazie. Per me va bene. Perfetto. Anche per me va bene. Ok, Lorenzo, perfetto. Danilo, Danilo va bene? Va bene. Va bene per tutti? Sì. Va bene, allora lo diamo per approvato. Perfetto, io chiudo questo salva. Vedete sempre il mio, scusatemi, interrompo un attimo la condivisione dello schermo e partiamo dal secondo punto all'ordine del giorno. Allora, l'ordine del giorno è il documento, questo documento non è stato protocollato. E riguarda tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, sia la nostra commissione che la commissione mobilità, tutto il lavoro di istruttoria che abbiamo fatto per avviare il piano, per scrivere gli indirizzi del piano PERVA. La risoluzione è composta da tre parti. Una parte è tutto il dispositivo legale, comprese fino alle ultime disposizioni in materia legale del decreto sostegni, fatto da Draghi. in cui ci sono dei contributi per diffondere il linguaggio lissa, il linguaggio italiano della lingua dei sordi. Magari poi entriamo molto velocemente in dettaglio, molto velocemente però, su questo primo pezzo della risoluzione. La seconda invece fa parte, ho raccolto tutta la parte istruttoria che abbiamo fatto e quindi tutte le cose che abbiamo analizzato nel corso di questa istruttoria, che riguarda la relazione che ci ha presentato il direttore Guastella, che riguarda anche le segnalazioni che abbiamo analizzato, che vi ho inoltrato, che si riferiscono all'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno del nostro municipio, che sono circa una trentina, poi leggeremo, e tutte le interviste che abbiamo fatto a tutti gli ospiti che abbiamo avuto. E poi c'è alla fine il dispositivo finale, molto complicato nel senso complesso, con tutte le informazioni, tutte le cose che chiediamo da fare, sia dalla parte del sindaco, sia invece dalla parte del nostro consiglio, della nostra raggiunta. Quindi io proseguirei un attimo, molto velocemente, a leggerla. Ve la metto in... Posso interrompervi un secondo solo? In realtà questa risoluzione, la prima, è stata protocollata, poi però è stata rimodificata, infatti su Teams ci sono due versioni, la prima protocollata e la seconda rimodificata, per cui alla fine di tutta l'istruttoria... Avete detto che non l'avreste protocollata? Io questo, io non lo so, io vi riferisco a quello che è avvenuto perché non ero presente quando è stata protocollata, però so che l'hanno protocollata all'interno dell'ufficio commissioni, quindi dicevo, la prima risoluzione è stata protocollata, però c'è una nuova versione, quindi su Teams se ne sono caricate due, e l'ultima è quella che voi oggi andrete a leggere e rimodificare, quindi poi verrà riprotocollata. Ecco, era soltanto per comunicarvi questo. Grazie Caterina, ho capito che non era stata protocollata, perché non c'erano tempi... No, invece vedo che era protocollata e anche... L'ufficio commissioni mi ha detto no, e poi abbiamo deciso con Giulio, in separata sede, di non protocollarla proprio per... perché il percorso che devono fare le risoluzioni all'interno delle commissioni sono percorsi che abbiamo in qualche modo discusso anche nella commissione, e che sono... se vengono protocollate prima, durante la commissione, non si possono votare? Oggi la votate, non penso... No, oggi noi la votiamo... Però vedo che all'ordine del giorno vedo che è proprio indicato il protocollo di questa risoluzione, lo vedo qui... Ma non è possibile, io non ho messo... Però se leggete l'ordine del giorno... Io non l'ho dato, ma avete corretto le cose che ho scritto io? No, io non ho corretto niente, perché non ho fatto niente... Scusate, penso che sia un falso problema, tanto dobbiamo comunque rimodularla, quindi che sia protocollato o meno, quella che voteremo sarà un'altra... Ecco, io ve lo sto comunicando semplicemente perché... Chiarissimo, Caterina, è stata protocollata perché c'è una richiesta di protocollazione... Esatto, va bene, tutto qua... Andiamo avanti... Provo ad abbassare la mano, eh... Scusate, continuiamo, insomma, sì, con questa confusione... Io... Cerisola ha chiesto di parlare... Grazie, consigliera... Grazie, consigliera e grazie, Presidente... Allora, io ho alzato la mano prima che intervenisse il consigliere Corrente, ma in realtà ringrazio il consigliere Corrente che anche se è intervenuto, diciamo, superandomi, però voglio dire, ha detto le stesse cose che avrei detto io, quindi lo ringrazio. In effetti non è una questione se protocollato o non protocollato l'atto, perché comunque abbiamo ricevuto una mail in cui c'è un nuovo testo della risoluzione che immagino sia scaturito dalla riunione della commissione terza. Quindi se c'è un nuovo testo ed è stato redatto in commissione, anche una successiva commissione, un'altra commissione, ma comunque c'è un nuovo testo, ora il testo precedente, che sia o no protocollato, diciamo che comunque è superato da questo nuovo testo. Ecco, questo volevo dire, almeno questa è l'impressione che io come consigliere ne traggo dalla documentazione che mi viene inviata. Grazie, Presidente. Grazie, ma io infatti vi ho comunicato solo che c'erano due versioni su Teams, solo per chiarezza, per questo, insomma, no perché ci fosse qualche problema. Allora, chiariamo che il documento, quello su Teams, non l'ho messo io. Io, siccome stamattina ho inserito le correzioni di corrente, io penso che quello che oggi, stamattina, discutiamo è quello ultimo, che non è quello su Teams che metterò subito dopo, però io lo mettiamo alla fine della discussione. Allora io tolgo quello che abbiamo inserito, così non si crea confusione, va bene? Buongiorno, grazie Caterina. Io l'ho inviato stamattina nella chat, non ho potuto nemmeno inviarlo via mail, perdonatemi, questa notte non ho dormito. Quindi discutiamo quello, che ve l'ho già inviato, almeno in chat l'avete tutti quanti, quindi diciamo partiamo da un, ve lo posso anche inviare via mail, ma è inutile, credo. Partiamo da questo. Allora le tolgo tutte e due, va bene? Siete d'accordo? Così non si crea confusione. Grazie Caterina, metteremo quello che uscirà oggi. Certo, certo. Grazie per questa cosa e ringrazio della presenza anche di sia l'assessore Laurelli che Giulio Corrente, che siamo molto affiatati in questo momento. Allora, innanzitutto il piano PEBA, il periodo, per noi abbiamo deciso con Giulio che è quattro anni e non tre. Uno perché, anche dalla discussione che abbiamo fatto ieri con il direttore Guastella, che oggi non l'ho invitato ma non sarebbe comunque potuto venire, serve almeno un anno, e poi lo vedrete nell'impegna, serve almeno un anno per progettare, modificare il documento di partenza, che già comprende una mappatura, per trovare i fondi e per progettare, per scrivere veramente un piano che sia un piano e che non sia un pezzo di carta, che sia qualcosa di concreto. Ecco perché abbiamo allungato di un anno il tempo di questo piano. Allora, queste qua sono le premesse, come vi dicevo, la prima parte del documento di risoluzione, che parla della legislazione. Parliamo innanzitutto della legislazione italiana. Sono, come vedete, le leggi del 1986 e le leggi del 1989, che cominciano a trattare dell'obbligo per i comuni e per le province anche di adottare piani per eliminare le barriere architettoniche. Quindi stiamo parlando di tantissimi anni fa, di quasi 40 anni fa. Abbiamo anche delle leggi, il decreto ministeriale del 1989 è il testo che è tuttora di riferimento tecnico proprio per la progettazione inclusiva, ancora molto valido. La legge del febbraio, ovviamente la famosa 104, che stabilisce che le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperte al pubblico che non rispettano le norme sull'accessibilità e l'illiminazione delle barriere architettoniche devono essere dichiarate inabitabili o inagibili. Poi ancora, va bene, salto il Tuel, anche la regione ovviamente ha scattato delle linee guida che sono state utilizzate anche dal Comune di Roma per le delibere che poi l'Aggiunta Comunale ha fatto nel corso di questi anni. Questa invece è una novità che ha raccontato ieri il direttore, che ho chiesto ieri dell'uscitazione al direttore. Cioè la presidenza del Consiglio, l'anno scorso, ha definito i criteri per rilascio della Carta Europea della Disabilità in Italia, istituendo la Carta della Disabilità. Io ho chiesto al direttore se come municipio eravamo pronti a emettere questa carta e lui mi ha detto che questa carta non è un incontro all'anagrafico dei comuni e dei municipi, ma è un incontro all'Inps e che comunque sicuramente costituirà tutta una serie di vantaggi per le persone che la esibiranno nell'accesso ai servizi municipali. Poi qui invece parliamo degli impianti semaforici che sono normati da decreti completamente separati dalla normativa sulle barriere architettoniche. Queste sono barriere sensoriali e abbiamo visto che sul nostro territorio non ce n'è praticamente nessuno di impianti semaforici dotati di segnalazione acustica e in tutta Roma ce ne sono veramente pochi. Quindi noi anche su questo punto c'è un punto nell'impegna in cui chiediamo che ci sia una concertazione fra gli uffici nostri, municipali e il Dipartimento Mobilità del Comune di Roma, a cui è assegnata la competenza degli impianti semaforici per cercare di estendere anche il nostro territorio nei punti più sensibili, negli attraversamenti maggiori questi impianti semaforici con dispositivi acustici. Questa è l'ultima cosa che avevo detto nel decreto sostegno proprio in uno degli ultimi mesi, quindi c'è anche la possibilità di avviare progetti sperimentali per diffondere il servizio di interpretariato. E questa è la parte normativa nazionale. Poi ho inserito la parte normativa comunale. Abbiamo un'importantissima delibera della Giunta Capitolina del 2014 che ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani per le barriere architettoniche di tutta Roma, seguita anche da un'altrettanto importante memoria di giunta Capitolina del 2017, che ha mandato a tutti gli assessori e agli uffici, sia dipartimentali che municipali, di avviare questa analisi delle azioni intraprese in materia di accessibilità. e proprio sulla base di questa memoria di giunta all'interno del nostro municipio è stato realizzato quel documento che abbiamo analizzato in una delle ultime riunioni sull'argomento PEBA, che è questo documento realizzato, questa relazione fatta dalla direzione tecnica, che comprende circa 130 punti all'interno della città, in cui sono previste con diverse criticità, maggiori o minori, barriere architettoniche, però relativi soltanto alla mobilità. Poi abbiamo anche un'altra delibera di giunta Capitolina del 2020, che straccia una metodologia per eliminare le barriere architettoniche, io trovo che sia una delibera molto complessa, però è proprio da questa partiamo, perché da mandato proprio ai municipi di individuare queste zone urbane su cui elaborare i piani e stabilire l'elenco degli interventi in ordine di priorità. abbiamo ancora, ho voluto citare qui il discorso della delibera di giunta comunale del 64-2002, in cui si parla dei punti di ascolto, cioè di come arrivano le segnalazioni, come da un cittadino arrivano e vengono veicolate le segnalazioni, in particolare quelle che ci interessano a noi, che riguardano le barriere architettoniche, e anche su questo all'interno della... noi se vi ricordate volevamo fare anche una mail diversa, ma in realtà con questo regolamento non solo è normato l'intero flow, e poi abbiamo fatto anche questa intervista ai nostri uffici per quanto riguarda l'URP, abbiamo sentito l'URP di come arrivano queste segnalazioni, ma non possiamo assolutamente inserire un ulteriore elemento che creerebbe problemi all'URP di dover rimettere in un circuito diverso queste segnalazioni per raccogliere tutte quante insieme. e quindi dopo questa verifica io mi sono fermata, dopo averne parlato anche con Giulio. L'ultima... ecco, questo pezzo qua... questo pezzo qua riguarda il servizio multimediale che il Comune di Roma ha attivato nell'arco di questi ultimi due o tre anni, che però è un progetto che scade il 31 gennaio 2023, ma in cui molti municipi, e sul sito del Roma Capitale se ne ha parecchia evidenza, li hanno già cominciati a utilizzare proprio per includere la popolazione non udente all'interno dei servizi di municipi. Come funziona questo servizio di video remote interpreting? Praticamente la parte di software è fornita già dal... insomma l'acquisita il Comune di Roma Capitale, è un servizio aperto in orario di ufficio, anche sabato, però sabato mattina, nel momento in cui una persona che ha un deficit uditivo deve comunicare con qualcuno degli uffici, c'è un sistema di persone collegate che sono in grado di interpretare quello che... di fare proprio da interprete fra quello che... fra le due persone, fra la persona che ha problemi e l'ufficio. Questa è una comunicazione che avviene a real time e che alcuni municipi, come vi dicevo, stanno già utilizzando. Quindi io spero tanto che, poiché questa scadenza è prevista il 31 gennaio, spero tanto che questa... nel dispositivo finale io in qualche modo chiediamo di prorogare questa scadenza, ora vedrete. Poi ho trovato anche che il nuovo proprio del nostro... nel nostro municipio nel 2016 c'è stata la risoluzione 35, che chiedeva proprio di effettuare la mappatura delle barriere architettoniche e credo che sia proprio questa che abbia dato in là dopo tre anni però alla direzione tecnica di effettuare questa mappatura di cui abbiamo parlato. Questo qua è considerato che è parte di tutta l'istruttore che abbiamo fatto, che i nostri quartieri sono nati prima, vi dirò del 46, torino del 85, prima diciamo di questa... di tutta la normativa nazionale e quindi effettivamente hanno bisogno di interventi. Questa qua è il documento che vi dicevo, che è il documento... Padri, scusami, ma noi non vediamo niente? Non hai condiviso? Sì, non ce la condivisiona. Grazie Paolo. Io la sto leggendo sul file Word, non so... Ah, ok. Vabbè, scusatemi, ma ero convinta di dare la condivisione. No, 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 non è un problema. Senti, dato che tu stai nella condivisione, ho visto che c'è la mano alzata di Luisa Laurelli, non so se vuole intervenire subito... Ah, prego, non l'avevo vista, però non so se vuole intervenire prima che... Eh, infatti... Assessora vuole intervenire... Io interverrei... Scusate, interverrei non appena finisce Patrizia De Vivo e poi chiedo scusa in anticipo, ma ho una riunione in regione già programmata da tempo e quindi vi devo lasciare. D'altra parte, questo argomento di oggi è stato piazzato in tante commissioni nel giro di pochi giorni, quindi l'abbiamo vista, io credo, tutto il Consiglio, questa roba qui. Quindi, eh... Appena finisce Patrizia, faccio qualche proposta e poi vi lascio lavorare serenamente. Grazie Luisa. Allora vado più veloce ancora, perché non so a che ora c'è appuntamento con la Regione. Io alle 10 mi devo muovere. E allora devo proprio correre e a questo punto vado direttamente a questo punto, visto che sappiamo un pochino tutti, abbiamo vissuto questa fase intermedia che riguarda l'istruttoria che abbiamo fatto, perché non è altro che la raccolta di tutte le informazioni durante le nostre riunioni, io vado direttamente a tutto ciò per me si è considerato. Allora, questo qua è il primo pezzo, quello che chiediamo al Sindaco di Roma. Al Sindaco di Roma chiediamo di potenziare i finanziamenti nel bilancio comunale per adeguare i semafori con dispositivi acustici per ciechi e i povedenti, come richiesto anche da Luigi di Roma. Se vi ricordate c'è stato detto questo, c'è stato detto proprio di sottolineare in un nostro atto la loro richiesta. Poi, questa è una correzione fatta ieri da Giulio Corrente, di individuare nei regolamenti attinenti alla mobilità sostenibile di prossima elaborazione e specifiche modalità per lo stazionamento dei monopattini e bicicletta a noleggio al fine di evitare intralcio e conseguente barriera per l'utenza debole. Perché Giulio ci ha raccontato ieri che sono proprio in corso in questi giorni, quindi stanno modificando questi regolamenti per la mobilità dei monopattini, delle biciclette. Poi, sempre discutendone ieri con il direttore, noi abbiamo individuato questa figura del disability manager, ma lui effettivamente ritiene che sia necessario, che è vero, confermo, che ci sia dei corsi specifici per queste figure. Sono andata a verificare nella scuola di formazione capitolina e non ho trovato l'elenco dei corsi, quindi mi permetto qui sopra di indicare che nessuno interno, non ho trovato proprio che cosa, su quali sono gli argomenti in cui loro formano, per cui chiederemo di inserire corsi per far crescere queste figure all'interno dei nostri uffici. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima, di estendere per i municipi che ne faranno richiesta il tempo di adozione dello strumento video remote interpreting, incluso nel servizio multimediale, per soldi che è in scadenza a gennaio. Invece, cosa chiediamo alla Presidente dei Municipi e gli assessori competenti nei diversi ambiti? Ecco, questo è il pezzo clu, il pezzo più importante, su cui ieri si è incentrata la nostra attenzione. Chiediamo di attivare l'ufficio tecnico municipale per intraprendere le azioni necessarie per edigere il piano PEB municipale per il quadriennio 2023-2026 del municipio 9. Vabbè, qua posso togliere il municipale del municipio. Utilizzando la relazione introdotta dall'ufficio tecnico succitata, aggiornandole alle mutate esigenze del territorio ed integrandole con l'inserimento di percorsi delle fermate di trasporto pubblico fino agli uffici postali, di coinvolgere la consulta della disabilità a Luigi di Roma durante l'elaborazione del piano e il Dipartimento Mobilità del Comune al fine di individuare gli impianti semaforici del municipio ed adeguare con i dispositivi sensoriali. Il tutto nella consapevolezza che la redazione del piano sarà preceduta da una fase preparatoria propedeutica alla disponibilità delle risorse organizzative per inquadrare le fasi del piano sia progettuali che realizzative e le relative previsioni di spesa da inserire annualmente a bilancio. È un po' contorto quest'ultimo pezzo ma è quello che in qualche modo ieri ha detto il direttore Guastella che effettivamente questi anni, il primo anno, sarà una fase preparatoria propedeutica proprio per 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 inquadrare quali sono i contenuti del piano di trovare le risorse e iniziare a progettare. Poi prevedere fra le voci di bilancio acquisti di tablet o dispositivi immobili da utilizzare in modo sperimentale come previsto dal decreto sostegni per installare sistemi a multimediale per video remote tintare e petringa. Vado avanti di concordare con la polizia locale campagna mirata al contrasto della sosta selvaggia specialmente in corrispondenza a scuole edifici pubblici e in generale la sosta che impedisce l'uscita dei marciapiedi. Di fare un accordo con Ama Municipale finalizzato alla delocalizzazione dei contenitori di raccolta statale dei rifiuti attualmente posizionati sui marciapiedi e di individuare in modo sperimentale nel nostro territorio forme di riconoscibilità dei contenitori per consentire alle persone con deficit visivi il corretto conferimento. Questo sarebbe unico in Italia questo pezzo quindi insomma l'abbiamo messa sperimentale. Concordare con il Dipartimento di Architettura e Progetto dell'Università La Sapienza sulla base del protocollo d'intesa firmato nel 2021 per il restyling dei mercati di includere percorsi tattili e mappe di luogo da posizionare all'ingresso dei mercati il cui scopo è quello di far conoscere la disposizione dei vari stali mercatali e dei servizi presenti di promuovere con il Dipartimento di Architettura e Progetto dell'Università La Sapienza l'organizzazione di percorsi formativi e divulgativi della progettazione inclusiva di reperire fondi aggiuntivi per progettare e realizzare interventi annuali di rimozione barriere architettoniche e sensoriali comprensive delle mappe tattili per l'accessibilità ai siti indicati nella relazione suddetta e derivati anche dalle segnalazioni dei residenti in considerazione del maggior impegno dell'ufficio tecnico dovuto all'implementazione del piano di zona urbana PEB si ritiene importante provvedere ad un rafforzamento del personale tecnico sulla base delle valutazioni espresse dalla direzione tecnica questa è l'ultima pagina del documento sono andata un po' veloce scusatemi ma come ha detto la prima l'assessora l'hanno vista un po' tutti prego assessora ho fatto una corsa 5 minuti va bene grazie grazie di questo lavoro perché comunque rappresenta una sintesi che ricorda le normative nazionali regionali anche gli atti deliberativi comunali più importanti degli ultimi almeno vent'anni e ricostruisce anche il percorso avviato diciamo dal municipio 9 nel 2016 per fare un piano di abbattimento delle barriere architettoniche e dice pure però le criticità cioè dice che quella è una pianificazione che è una base di partenza per fare un piano più definito più efficace quindi che benvenga la risoluzione che impegna la giunta e per giunta io direi i due assessori perché la parte dei lavori pubblici è quella che esegue indirizzi che vengono dati dal sociale quindi ovviamente bisogna citare tutti e due gli assessorati e la cornice nella quale tutto questo lavoro fatto deve essere inserita è il piano sociale municipale perché è la nostra pianificazione triennale e dovremmo nello scrivere il piano sulla base di questa risoluzione anche indicare modalità e scadenze adesso io non so se l'ufficio tecnico è in grado in un anno cioè se noi siamo in grado di dire che alla fine del 2023 questa pianificazione dell'abbattimento barriere architettoniche deve essere completato visto che il lavoro è già in buona parte fatto però quello potrebbe essere un obiettivo concreto del piano a cui devono seguire una volta che hai la pianificazione l'individuazione di priorità che lo fai attraverso i fondi di bilancio quindi decidi nell'ambito dell'anno successivo alla pianificazione dell'anno finanziario da dove parti perché qui c'è diciamo in modo descrittivo l'elencazione delle criticità quindi vogliamo cominciare dai semafori non ce n'è manco mezzo che sia utile a qualcuno quindi e sono fondi impegni soldi eccetera magari in un anno ogni anno l'obiettivo e del piano sociale e della pianificazione per l'abbattimento barriere architettoniche riuscisse a raggiungere un obiettivo l'anno sarebbe un miracolo tanto più che finora diciamo sono state fatte leggi e regolamentazioni a cui atti concreti sono seguiti molto poco io sentivo prima la lettura da parte della presidente so che ovviamente non si può costruire costruendo contestualmente barriere architettoniche e bisognerebbe abbattere le barriere architettoniche altrimenti quello che tu hai realizzato non viene autorizzato non so se Patrizia De Vivo ha la voglia e il tempo di impegnarci ma sarebbe carino fare uno studio per vedere a Roma quanti casi di questa natura siano mai accaduti neanche uno credo io credo che la legge giustamente dica che se tu hai realizzato un'opera e hai contestualmente realizzato barriere architettoniche poi non dovresti avere l'autorizzazione all'utilizzo del manufatto dell'esercizio eccetera non credo che il seguito sia mai avvenuto quindi polizia locale controllo degli uffici tecnici eccetera non credo proprio quindi direi che questa risoluzione ci aiuta a ricostruire una situazione a rimettere un po' d'ordine e anche ad inserire in una pianificazione che è il nostro piano sociale municipale un progetto di questa natura che è doveroso che è rilevantissimo che impegna in termini economici l'amministrazione comunale che se si vuole definire un'amministrazione all'altezza delle sue funzioni e degli obiettivi di legge perché qua parliamo di buone volontà parliamo di obblighi di legge per dare un'immagine e anche una sostanza di maggiore civiltà alla città di Roma sul piano barriere architettoniche deve fare delle cose deve far diventare questa una priorità nell'ambito di tante emergenze se non diventa mai una priorità vuol dire che noi siamo una città incivile che non consente alle persone più fragili di poter agire la città stessa e di poter esercitare i suoi diritti e ottenere risposte ai suoi bisogni non lo può fare questa è la triste realtà poi c'è tutto un tema che riguarda l'inciviltà dei cittadini e ben affatto la Presidente a scrivere che la polizia locale dovrebbe fare dei corsi eccetera eccetera quindi benissimo tutto questo penso che la risoluzione ci aiuti rafforzerei la parte del del dispositivo finale dicendo esplicitamente che si impegna l'assessore alle politiche sociali ad inserire nel piano sociale municipale gli indirizzi di questa risoluzione garantendo anche una tempistica quindi obiettivi priorità e scadenze quindi nei tre anni che cosa noi pensiamo sia prioritario fare questo lo decide il consiglio municipale quando vota il piano sociale municipale per il resto ho un solo dubbio che è relativo alla parte finale che non ho ben capito che riguarda il personale che deve fare la pianificazione effettiva e conclusiva quindi nel piano sociale municipale bisogna scrivere che quello che abbiamo trovato è una base di partenza e che però diamo un obiettivo che deve stare negli obiettivi dei nostri direttori che so tutti e tre implica tutti e tre sì sia Guastella che ai raghi che l'ingegner Sica li devono mettere nei loro obiettivi di dirigenti nei loro obiettivi annuali il primo deve essere che la pianificazione venga conclusa nell'anno 2023 definitiva quindi tu hai la la descrizione di tutte le necessità e anche delle criticità contestualmente devi impegnare il l'aggiunta e il consiglio a ottenere i fondi per realizzare almeno uno degli obiettivi quindi se siamo in grado di indicarlo nella risoluzione secondo me meglio quindi sono i semafori intelligenti benvengano sono i percorsi tattili verso i mercati o verso gli uffici postali benvengano però decidiamo noi decida il consiglio assieme all'aggiunta una priorità economica per l'anno 2023 sul personale io penso che debba essere formato tutto sulla questione abbattimento barriere architettoniche perché quando parliamo di una città agibile senza barriere parliamo di una città che garantisce la fruizione dei diritti a tutti i cittadini abili e non abili ed è un obbligo di legge non è una possibilità o qualcosa che dipende da una volontà è un obbligo di legge quindi non marcherei la parte relativa alla necessità di avere del personale dedicato perché il nostro personale dell'ufficio tecnico pure se noi scriviamo che a poche unità disponibili come operatori tecnici o scriviamo che deve essere incrementato nella realtà le leggi del nostro Stato impone a questi nostri funzionari quello che prevedono le leggi in materia di controllo sui lavori e di diciamo sanzioni anche relative all'abbattimento di barriere architettoniche quindi non è che se noi scriviamo qua tutto questo si può fare se ci arrivano due nuovi geometri no tutto questo il nostro municipio lo dovrebbe già aver pianificato da una vita quindi sicuramente saremo impegnati ad incrementare le risorse umane fino allo spasimo ma non credo che dobbiamo condizionare l'esigibilità dei diritti delle persone con disabilità al numero delle persone che in questo momento lavorano su questo nel nostro ufficio tecnico non so adesso l'ultima frase che te hai scritto come è scritta perché non l'ho letta e quando l'hai letta diciamo non ho do questo suggerimento insomma ok per il resto grazie mille di questo lavoro grazie assessore io volevo prima che lei vada via sì riporterò anche io avevo pensato che volevo mettere una scadenza almeno che alla fine del prossimo anno possiamo avere questo piano da votare in consiglio e poi è ovvio che noi durante quest'anno parteciperemo al tavolo ci parteciperà la consulta della disabilità continueremo a seguire questo lavoro quindi va scritto scusami Patrizia nella risoluzione che questa risoluzione viene mandata agli uffici del servizio sociale perché venga preesaminata negli appositi tavoli tematici in cui si prepara il piano perché se no chi sta lavorando al piano sociale è avulso dalla da quello che in questo momento l'amministrazione si è aggiunta che il consiglio sta dando come indirizzi e come esecutività degli indirizzi vabbè ora ne devo parlare pure col direttore ai raghi di questa cosa non l'avevo coinvolto ma de che Patrizia ma esercitiamo le funzioni che abbiamo se tu vai a chiedere ad ai raghi quello sicuramente ti dice comincia al pianisteo so pochi e qua e là adesso io ho partecipato ieri a un tavolo tematico per la preparazione del piano stiamo raccogliendo stanno raccogliendo tutte le istanze i progetti e che vengono dal fuori ma c'è un momento in cui in questi tavoli non dopo che sono chiusi i tavoli ma in questi tavoli qualcuno che rappresenti l'amministrazione quindi il consiglio municipale e la commissione competente che siete voi e la giunta che in questo caso sono io che al tavolo dica intanto c'è questa risoluzione che impegna a mettere nel piano questo 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 e questo questa roba va fatta adesso e non riguarda solo il voto del consiglio si chiude la partita e poi ai raghi con gli uffici qualcosa farà io penso che il consiglio liberamente si dà degli obiettivi e dà degli obiettivi agli uffici questa diciamo è la regola se vuoi arrivare ogni anno ad ottenere effettivamente l'avanzamento di un progetto di abbattimento di barriere architettoniche se siamo ai condizionamenti relativi al personale necessario a chi pianifica se è la priorità in questo momento ognuno nel suo lavoro ha priorità diverse potrebbe questa non essere presa come una priorità quindi tutto questo lavoro che hai fatto diventa puro esercizio ricostruttivo e teorico io vorrei dare a tutto questo lavoro fatto una forma esecutiva qualcosa di effettivamente praticato va bene io ci rifletto faccio le modifiche in qualche modo che fate voi le richieste grazie grazie assessora Fulvio Bellassai prego sì grazie beh l'assessora mi ha bruciato praticamente tutto l'intervento ma io ci tengo solo a ribadire noi ci leggiamo nel pensiero non lo diciamo troppo sennò poi dicono che siamo troppo accondiscendenti noi non lo siamo quando non è il caso di esserlo guarda prima di te su questo alle ori purtroppo ne fa le spese continuamente va bene realisticamente però diciamo che quello della programmazione dei tempi è un mio personale pallino e credo che sia un po' un vulnus che affligge tutti gli atti che approviamo comunque la maggior parte degli atti che approviamo meno forse quelli che sono direttamente nelle mani della presidente dell'unicipio diciamo che però questa intanto ci tengo a dire anche io che questa Fulvio Fulvio siccome ormai siamo in sintonia totale e sto veramente entrando in macchina quindi dopo mi riesce difficile proseguire la connessione mi sono assolutamente dimenticata di dirvi ma vi ho fatto mandare le mail e tutto che io ci terrei veramente in modo molto particolare a che il 22 alle ore 9 all'inaugurazione delle due nuove case di vitinia siate presenti io ci tengo particolarmente nella nostra città alla parola PNRR adesso si può dare una sostanza di concretezza questi siamo noi municipio 9 primi a Roma che non è un vanto mio personale o della giunta è di tutti quanti noi il discorso che facevo sul piano sociale sui tavoli deriva dal fatto che ieri sono stata al tavolo della disabilità e di questa realizzazione praticamente tutti i presenti nessuno ne parlava allora a che serve un'amministrazione che realizza dei servizi se l'apparato tecnico amministrativo non comunica a quei tavoli per questo io dico se dobbiamo fare una risoluzione che resta un pezzo di carta su cui forse qualcuno si impegnerà a lavorare basta esercizio teorico per me non basta anzi non serve proprio se invece ne vogliamo fare una cosa concreta nel dispositivo finale va rafforzato questo indirizzo cioè dire al piano si al tavolo apposito si ragioni già da adesso su questa risoluzione una volta approvata e si condividano se possibile obiettivi di concrete realizzazioni scusate mi sconnetto smetto di rompere arrivederci buona giornata assessora ciao è bruciato anche questo intervento si va bene ma io riassumo rapidamente Patrizia cioè alla fine quello che quello che al di là della vemenza dell'assessore laurelli ma quello che credo vada preso effettivamente per come uno stimolo è il fatto che ci sono atti nei quali diciamo uno esprime solo un indirizzo il cosiddetto indirizzo politico a me questa è una frase che è una parola che francamente c'è un'espressione che francamente spesso mi lascia perplesso perché mi sembra che rimanga un po' nelle nuvole dire che si dà un indirizzo politico se poi non si pensa anche all'attuazione pratica invece questo è uno di quegli atti nei quali avete lavorato abbiamo lavorato avete lavorato soprattutto direi molto molto approfonditamente molto bene e che effettivamente merita di insomma di cercare di diventare di cercare un'attuazione pratica prima di tutto perché è dovuta per legge avrei detto anch'io e poi perché abbiamo noi stessi citato in questa risoluzione una 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 sfilza di normative e abbiamo constatato che sono per la maggior parte inattuate provvedimenti inattuati normative non rispettate perlomeno a Roma poi ogni parte d'Italia avrà la sua differente realtà e quindi avrei chiesto anch'io due cose fondamentalmente una era che il piano di realizzazione il piano la realizzazione del piano PEBA venisse indicata con dei tempi limite ed anche io francamente condivido pur comprendendo che sul piano delle risorse umane organizzative si sta facendo poco però condivido anch'io il fatto che se mettiamo sempre avanti il tema delle risorse organizzative umane penso che ci troveremo a sbattere il grugno contro l'impossibilità di seguire le problematiche che noi approviamo in tutti i casi o quasi allora io dico anche un'altra cosa permettetemi di carattere più generale ma poi veramente vado a concludere e questa è che è inutile continuare ad approvare atti e prendere decisioni quando siamo consapevoli che queste decisioni non sono attuabili per problemi organizzativi quindi forse sarebbe il caso di fermarsi un attimo e affrontare i problemi organizzativi questo così in linea generale che non vuol dire solo e lo ripeto per la cinquecentesima volta non vuol dire solo chiedere nuove risorse nuove risorse umane sicuramente quello è un fattore imprescindibile ma significa anche operare una riorganizzazione del lavoro e delle strutture questo è il mio parere e poi l'altro aspetto era quello che appunto nella connessione col piano sociale cioè il fatto che effettivamente questa cosa non si sviluppi parallelamente ma al contrario nella consapevolezza di tutti coloro che si stanno occupando del piano sociale sarebbe il caso di creare una connessione ecco questo era quanto volevo dire poi ho qualche suggerimento di carattere editoriale come dicono gli inglesi cioè qualche correzione concreta la dico la dico rapidamente se mi permetti la prima è che citiamo la risoluzione 35 del 2016 forse bisognerebbe metterci anche un protocollo credo la seconda è che nell'impegna avevo letto anche ieri sera nell'impegna il consiglio diciamo ci sono delle frasi che cominciano con dico ricordare di fare eccetera eccetera che cominciano con prevedere e con promuovere vabbè poi sono questi sono veramente dettagli grazie ho finito ah ecco l'ultima cosa è che anche io se non non so fino a che punto andrà avanti la commissione io però a un certo punto devo lasciare perché all'una ho un impegno dall'altra parte della città è inderogabile quindi grazie ma non è che non vieni in consiglio oggi no arriverò tardi perché ho perché ho veramente un impegno dal notaio ti dico solo questo preso 8000 anni fa naturalmente ho provato a chiedere se si poteva anticipare ma insomma va bene questo è arriverò però però prima possibile grazie ciao grazie sì grazie presidente allora l'assessore laurelli diciamo ha diciamo sottolineato una una triste realtà scesa anche dal consigliere Bellassai nel suo intervento che purtroppo molto spesso gli atti votati dalle varie amministrazioni che sono atti che possono essere o di indirizzo o di volontà politica di come si vuole procedere su certe problematiche e certe situazioni purtroppo molto spesso e l'assessore l'ha spiegato molto bene e anche il consigliere Bellassai del fatto che molti di questi atti che hanno diciamo nell'intento e nella volontà e azione politica e meritori poi nella realtà molto spesso sottolineo il purtroppo non vengono realizzati in modo in modo concreto perciò ritengo che la politica debba fare questo diciamo salto di qualità di fare in modo che non dico tutti perché sarebbe bellissimo e poco realistico però la maggior parte degli atti che vengono votati dalle varie amministrazioni per cui anche nella nostra possono avere poi una soluzione e un'esecuzione concreta di quello che è stato espresso nell'atto politico detto questo e poi è stato anche sottolineato negli interventi precedenti il discorso delle risorse umane allora quello che io posso dire con la mia esperienza è ormai più che decennale da consigliere che prima c'era il problema che non c'erano i soldi per realizzare certi tipi di opere o azioni politiche oggi siamo in una condizione che non c'è non ci sono le risorse umane per far fronte a tali esigenze cioè i fondi ci sono ma non ci sono le risorse umane che possono portare avanti i progetti i lavori e quant'altro una cosa che aggiungerei e perché condivido gran parte se non tutto sia l'intervento dell'assessore Laurelli che del consigliere Bellassai molto spesso però anche nella richiesta delle risorse umane no il comune dovrebbe fare un'analisi più profonda e mi spiego meglio perché non è sufficiente mandare delle persone a livello numerico ma devono avere la giusta formazione e competenza per le esigenze che il municipio chiede faccio un esempio se c'è bisogno di un ingegnere che un ingegnere che possa seguire i progetti per realizzare io non so dei lavori e tu mi mandi una persona che non ha quel tipo di competenze e quella persona è come se non me l'hai mandata questo è l'esempio ma vale per molti aspetti oltre che pensare alle risorse umane a livello numerico bisognerebbe anche pensare a livello di formazione e a livello di capacità e di esperienza a seconda delle persone che richiede il municipio per le proprie necessità grazie a cari Paola prego grazie presidente innanzitutto io la volevo ringraziare per l'ottimo lavoro che ha svolto come al solito sempre molto meticoloso e molto preciso io mi trovo d'accordo anche con gli altri interventi che sono stati fatti prima di me soprattutto quello fatto dall'assessora Laurelli sul discorso della fattibilità e della prosecuzione e di dare seguito a questi nostri questi nostri atti in una in una città inclusiva e anche dei 15 minuti perché ci voglio aggiungere anche questo quello che noi andiamo a chiedere all'amministrazione comunale e alla nostra amministrazione municipale penso sia più che dovuto quindi mi auguro che questa risoluzione non non giaccia nel ma io credo di no perché conoscendo l'assessora Laurelli io credo che non 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 la lasci giacere negli archivi delle delle nostre risoluzioni fatte anche perché fin ad ora ha dato dimostrazioni che volere è potere e noi questo tutto sommato lo vogliamo penso che sia anche visto che lei presidente siede anche ai tavoli per il la composizione del futuro piano sociale che possa anche questo essere inserito così come diceva anche l'assessora Laurelli tra gli argomenti da trattare nel nel prossimo nel prossimo triennio perché mi rendo anche conto che da partire da zero perché partiamo da zero con un discorso di sicurezza per le persone ipovedenti o non vedenti e comunque per l'abbattimento delle barriere architettoniche non è una cosa da poco considerando che non non solo il il nostro ufficio tecnico quindi no i nostri tecnici possano mettere a disposizione e gestire questo argomento perché mi sembra di aver capito da una una vecchia commissione che è stata fatta qualche tempo fa insieme all'assessore Angelucci che ad esempio il cicalino nei semafori purtroppo non dipende da noi ma dipende da un'altra amministrazione quindi il mio è sicuramente un plauso al suo operato e con l'augurio che nel 2023 qualche passetto in avanti su questo tema su questi temi sull'abbattimento in generale delle barriere architettoniche per i nostri cittadini possa essere iniziato grazie 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 consigliera Vaccari Fulvio e Borrelli sono le 10 e 18 molto rapidamente volevo dire per mettere per creare la connessione con i tavoli di cui abbiamo parlato tutti si potrebbe eventualmente al tavolo benessere qualità della vita delle persone con disabilità aggiungere la dicitura piano realizzazione del piano PEBA per creare un collegamento concreto al nome al nome del tavolo non credo però si può mettere all'interno degli argomenti da trattare gli argomenti sono stati già decisi ieri perché questi tavoli come sapete ci sono tre riunioni l'abbiamo letto anche nel verbale e acquisiscono le informazioni della disabilità dei progetti che nascono dalle associazioni i tavoli sono dedicati alle associazioni non a noi io non sono riuscita a stare presente a tutti ne ho saltato pure quello di ieri e salto anche quello di oggi che c'è quindi devo inserirmi come è stata facendo quindi io chiederò che all'interno della quando verrà scritto il piano sociale che sarà completato si inizierà a scrivere dopo gennaio perché a gennaio ci saranno le ultime riunioni acquisendo le informazioni delle associazioni non acquisendo le informazioni nostre della commissione quindi chiederò che all'interno di quel documento posso dissentire posso dissentire visto che il telefono è rimasto aperto mentre sto guidando certo posso che se le può stavo parlando però al tavolo di ieri tavolo della disabilità sono stati esaminati e votati quindi accolti con votazione formale ufficiale tanti progetti proposti da tante realtà associative compresa la consulta della disabilità se noi alla prossima riunione di gennaio chiediamo per iscritto una volta approvata questa risoluzione che venga presentato il progetto che la risoluzione rappresenta e venga posto in discussione con le realtà associative lì presenti facciamo un'opera meritoria sono d'accordo non parliamo di progetti futuri che io nella mia mente mi sono pensato che è carino fare la socializzazione e quindi organizzo il piccolo orto urbano parliamo di un'altra roba e non è che noi municipio quindi la parte amministrativa interveniamo dopo che le associazioni sono uscite di scena per diciamo affermare i nostri indirizzi no i tavoli del piano sociale servono per connettere le azioni amministrative di questo momento gli indirizzi per il prossimo triennio per connetterle tra amministrazione e realtà associative e mondo del terzo settore non è non sono tavoli esclusivi dove c'è l'ascolto del territorio non è così quindi secondo me appena il consiglio municipale approva la risoluzione e ce lo scriviamo espressamente nel dispositivo della risoluzione questa risoluzione va mandata dalla presidente De Vivo a Luana De Leo che è la responsabile del piano chiedendo che alla seduta ultima seduta del tavolo di lavoro sulla disabilità venga inserito come punto della discussione questa risoluzione io sono d'accordo era quello che un po' intendevo mettiamolo per iscritto da qualche parte perché sennò poi nel tempo anch'io sono d'accordo anch'io sono d'accordo con la proposta dell'assessore grazie io continuo nel mio intervento che sono stata interrotta vedo che ci sono anche interventi scusami Patrizia però sto in macchina adesso veramente entro in un'altra riunione quindi proseguite senza di me tranquillamente grazie ciao ciao grazie io stavo stavo volevo continuare il mio intervento prima un attimo di ascoltare Marco e Danilo un secondo perché volevo anche cioè questa la richiesta dell'assessore Laurelli ovviamente va va concretizzata io sì posso anche invierò alla Luana De Leo questa risoluzione ne devo discutere anche con Luana De Leo anche non soltanto il giorno a gennaio ma io assolutamente non voglio togliere spazio alle associazioni e ai loro progetti quindi il mio intervento era ok se dobbiamo far conoscere il nostro progetto anche alle associazioni io lo faremo conoscere però monopolizzare l'ultima seduta del piano sociale con il nostro progetto sinceramente a me seccherebbe tantissimo se fosse un'associazione che sta cercando che ha lavorato e ha portato dei progetti ieri al tavolo l'aggiungeremo fra i tanti però è ovvio che a mio parere ci hanno proprio perché è un piano sociale ci hanno la loro la priorità racconteremo che ci stiamo lavorando anche su questo porteremo questa spero che non ci sia però un dibattito su questa cosa come la stiamo facendo noi loro devono semplicemente prenderne atto prenderne atto anche a mio parere quello che stavo dicendo prima all'interno invece di un documento che loro che loro hanno contribuiranno hanno contribuito a scrivere è il finale ecco l'unica differenza è che vogliamo che a gennaio siamo lì presenti con questa risoluzione lo facciamo però è ovvio che sarà l'ultimo punto rispetto a tutti quelli che invece con tanta fatica i nostri uffici stanno cercando di acquisire dalle associazioni del municipio questo è quello che io intendo io li vedevo su piani paralleli non li vedevo su piani incrociati li vogliamo incrociare va benissimo però salvando tutto il lavoro che loro hanno fatto per rispondere sempre all'assessore che è andata via non è vero che che il nostro municipio oggi non ha non ha barriera architettonica o la città di Roma perché se vuoi io sto camminando e ho un'attenzione incredibile e credo che passi avanti in questi ultimi 10-15 anni sono stati fatti vedo non ci sono tutti i marciapiedi con gli scivoli ma molti marciapiedi con gli scivoli sì quindi io non sarei mai così dicendo non è stato fatto noi siamo contro la legge non è vero e ci ha spiegato anche l'assessore Angelucci che anche all'interno delle scuole una delle priorità è quella di far accedere i ragazzini nelle scuole e quindi e e e che non da nessuna parte anche all'interno delle segnalazioni che noi vediamo che abbiamo analizzato le 30 segnalazioni che sono arrivate non c'è nessuna scuola o che prende quella le scuole hanno tutto un altro percorso non c'è nessuna scuola che che ha inserito delle segnalazioni quindi io non non sarei così negativa nei discorsi in quello che è stato fatto in questi 15-20 anni perché non è che ci siamo svegliati noi con missione abbiamo detto voilà aprite gli occhi c'è da fare tanto lavoro se permettete in questo mondo non siamo soltanto noi 7-14 persone ma ci sono anche altre persone che stanno lavorando su sulle barriere architettoniche e questo e e e per per dare dignità a tutti anche 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 alle stesse persone del nostro ufficio tecnico con le quali l'altro giorno alla fine della riunione sono andata a parlare e mi hanno raccontato che hanno sono non sono sottodimensionate che se io gli metto sulla scrivania questo tavolo questa risoluzione non sono in grado di scegliere fra cosa voglio fare e cosa mi dice di fare oggi tutto quello che tutta la manutenzione ordinaria e quindi io credo che dobbiamo assolutamente accompagnare con i soldi che chiederemo al sindaco di mettere delle risorse lì sopra se non saranno delle risorse umane saranno delle risorse di soldi in cui chiederemo di fare queste attività però non mi è venita a dire che gli uffici sono tenuti a farlo perché è legge perché quello che è legge loro lo fanno perché all'interno dei loro capitolati quando danno un'attività di manutenzione vanno a verificare se c'è e questo è scritto anche nella nostra risoluzione vanno a verificare se c'è la dichiarazione di conformità poi che ci vadano di persona non ve lo so dire non ho il come dire il non li filmo però credo che tutti quanti qua dentro si compresa la direzione tecnica stia lavorando io quello che ho potuto verificare da Guastella e da Guastella è quella di veramente sì cerchiamo di dare una spinta a questa cosa e quindi Guastella io devo dirvi che l'ho trovato molto disponibile a fare in modo tale che questa risoluzione vada avanti ci ha chiesto pure siamo sono tre persone faremo i corsi come diceva anche prima consigliere alle ori ho inserito la dichiarazione la cosa sui corsi sia sul disability manager sia sui corsi che sono che magari la posso scrivere meglio anche nel dispositivo iniziale di riportare questi corsi che il comune di Roma faccia questi corsi formativi per per i nostri per le persone che sono nell'ufficio tecnico e che possono in qualche modo lavorare anche su questa cosa quindi scusate lo sogo però però io non sono abituata a sono abituata sempre a rispettare il lavoro di tutti di tutti e non vado lì a buttare sul tavolo di una direzione così a servivare perché noi siamo siamo il gruppo politico ma vado lì a capire e a dire noi vogliamo questo in che modo ci arriviamo questo è il mio modo di lavorare e vorrei che fosse il modo di lavorare di questa commissione scusate lo sfogo Marco ci risola prego posso io sull'ordine dei lavori sì allora sull'ordine dei lavori come lei sa come alcuni consiglieri già stanno alle 10.45 capigruppo il presidente Betoni non c'è quindi dico da subito che qualora la commissione continuasse ovviamente dovrò purtroppo lasciare i lavori perché altrimenti la capigruppo non si svolge una questione poi formale io ho perso la connessione avevo alzato la mano due volte quindi ogni volta mi sto riprenotando di nuovo e sono sempre in quota fate voi io comunque 10 minuti e lascio la seduta quindi ovviamente sono il numero 3 Marco possiamo far parlare un attimo Danilo però l'avete visto anche qui certo sì sì no ringrazio continuo ringrazio la presidente che me l'ha chiesto con cortesia prego grazie no non avrei mai fatto però è proprio una questione tecnica che ho perso e mi sono dovuto riprenotare no ragazzi telegraficamente perché veramente secondo me c'è c'è poco da dire se non il ringraziamento per una proposta di concretizzazione di un atto di due commissioni distinte che abbiamo approfondito diciamo singolarmente collegialmente che prova a mettere mano in maniera organica su un tema che evidentemente è enorme attualissimo e che ci appassiona ecco lo dico in senso positivo perché secondo me il fatto che come dire lo sentiamo come prioritario e quindi lo vogliamo difendere e poter l'applicato prima possibile proprio per andare a stanare quello che è un diritto negato un torto subito da parte di persone a cui viene impedita la libertà di movimento di spostamento e quindi di accesso pieno al diritto della vita credo che è una cosa che gridi giustamente di essere accolta raccolta e tradotta in termini operativi io su questo però non metterei dico la mia però veramente in punta di piedi in distonia le questioni c'è drammaticamente l'esigenza di essere operativi indubbiamente c'è l'esigenza che questa nostra discussione si intrecci informe che io non so ma nei fatti con altri pezzi di discussioni a cui parlo per me io non posso partecipare alle sedute del tavolo perché sono in contemporanea o alle commissioni o agli impegni di lavoro è un dato di fatto e quindi purtroppo mi rende impossibile facilitare questo intreccio che mi rendo conto che sarebbe assai utile per tutti e tutte cioè per i consiglieri e per le persone che giustamente e per fortuna partecipano ai tavoli quindi io sarei per raccogliere come dire questa sollecitazione questo invito a riflettere anche sul fatto che anche questo atto possa interagire con pezzi di discussione che già si stanno facendo come sarei invece per ribadire come è scritto il fatto che noi drammaticamente abbiamo bisogno di risorse perché è un tema reale purtroppo cioè un tema reale purtroppo perché le risorse uno sono insufficienti due sono insufficienti soprattutto in virtù del fatto che a queste stesse risorse chiediamo giustamente secondo me di mettere mano a temi così bassi e così importanti quindi sul piano operativo ecco questi sono gli unici due punti su cui mi sento di intervenire perché poi tutto il resto ovviamente lo condivido condivido le riflessioni dei colleghi dei consiglieri che mi hanno preceduto e ero convinto e sono convinto che su questi temi come dire c'è la volontà di tutti di tutte le forze politiche di come dire arrivare a una soluzione perché evidentemente è un tema che riguarda tutti a cui tanti abbiamo a cuore il tema e quindi va solo tra virgolette solo tradotto ma quel solo è stormontato da tutta una serie di ostacoli che vanno rimossi quindi bene nominarli e bene poterli affrontare grazie scusate mi taccio e ribadisco che poi purtroppo tra dieci insomma quando è devo abbandonare per questioni tecniche non per disattenzione rispetto al tema anzi grazie presidente sì grazie grazie presidente innanzitutto voglio ringraziare la presidente della commissione perché dall'inizio della consigliatura e anche oggi che si impegna per cercare di portare avanti dei temi cercare di condividerli con i commissari e non solo e quindi non non voglio insomma sorvolare su questo fatto che che dovrebbe essere un fatto normale cioè a volte uno dice ma come ma il compito suo che cosa cosa c'è da dire però dato che ci sono stati purtroppo degli atteggiamenti di senso inverso da parte di altre persone poi non adesso ma nelle sedi opportune lo sarò più chiaro su questo quindi insomma mi sembra giusto giusto sottolinearlo anche adesso la proposta di far passare davanti a me il consiglio di Borrelli che era assolutamente motivata ma comunque nonostante fosse motivata lei comunque me l'ha chiesto me l'ha chiesto educatamente quindi l'educazione è sempre una cosa meravigliosa e fa piacere riconoscere insomma come si va preso atto insomma che purtroppo non tutti hanno questo dono dell'educazione e del rispetto questa seduta è preseduta dalla presidenta che è stata eletta dai nuovi commissari quindi non è stata né nominata con decreto regio né né tirata sorteggiata insomma quindi avendola eletta noi anche se noi magari abbiamo scritto sulla scheda un nome diverso è comunque espressione istituzionale nostra quindi noi la riconosciamo come tale quindi non c'è nessuno che si può permettere di intervenire togliendo addirittura la parola alla presidente come è stato fatto in maniera veramente arbitraria e inaccettabile detto ciò passando invece al tema sono d'accordo con la presidente per quello che ha detto cioè c'è uno sforzo da da diversi anni a questa parte quindi non solo nella consigliatura scorsa c'è uno sforzo che si porta avanti da tempo noi cercare comunque di venire incontro a delle esigenze sono stati fatti degli scivoli sono stati fatti dei percorsi tattili insomma ci sono ci sono delle iniziative che sono portate avanti ora è chiaro che non sono sufficienti è chiaro che non dobbiamo assolutamente accontentarci che dobbiamo cercare di fare di più perché quello che c'è purtroppo è poco io l'ho detto più volte lo ripeto ancora il problema non è solo chi è meno fortunato di noi soprattutto riguarda chi è meno fortunato di noi ma riguarda tutti noi perché anche le persone che hanno la fortuna di avere la possibilità di camminare normodotati insomma volendo dai quartieri periferici arrivare a piedi non dico in centro ma dico all'eura spesso è impossibile perché non ci sono marci a piedi perché non ci sono percorsi fruibili perché ci sono strade ad alto scorrimento non ci sono strade secondarie non ci sono altri percorsi non ci sono piste ciclabili adeguate o comunque coprono solo una parte del territorio quindi c'è un problema molto molto ampio che riguarda le barriere architettoniche che ripeto sono sono per tutti io mi ricordo che tanto per dire avevo uno zio che abitava a Bergamo quindi al nord Italia e lui non aveva la patente diceva ma lo sai che ai centri commerciali io non ci posso andare cioè c'è l'accesso solo con gli automobili è una cosa veramente vergognosa ripeto ma non stiamo parlando di Roma qui non sto attaccando il sindaco Gualtieri sto dicendo che ci sono delle barriere architettoniche per tutti e a maggior ragione sono gravi quando colpiscono delle persone che più utenza più debole quindi insomma benissimo che continuiamo a insistere su questo tema ottimo che le iniziative che si stanno mettendo in cantiere mi spiace che questa questa risoluzione questo atto da un lato c'è un grosso sforzo di condivisione quindi grazie che siamo messi al corrente delle varie versioni intermedie dei vari aggiustamenti eccetera ora però faccio fatica bisognerebbe che quando arriva una nuova versione fosse spiegato con la modalità di revisione o con un commento testuale fosse spiegato che cos'è che è stato modificato rispetto alla versione precedente perché altrimenti uno dovrebbe direggersi i documenti completamente per capire cos'è cambiato cos'è stato modificato eccetera ora un ultimo cenno al fatto che appunto oltretutto non dimentichiamoci delle persone anziane non dimentichiamoci delle famiglie con i passeggi con bambini piccoli quindi con passeggini carrozzine o carrozzelle quindi ripeto se possibile per le prossime volte quando arriva una nuova versione di un atto scriviamo o si usa modalità revisione o scriviamo cosa è stato cambiato in modo tale che è più semplice e più veloce anche il lavoro di condivisione il lavoro di capire insomma il processo il lavoro che c'è dietro ai documenti e quindi i miglioramenti che via via vengono inseriti ringraziando ancora chiudo il microfono grazie presidente presidente posso fare il mio intervento vedo che credo che sia un problema di connessione vedo l'immagine bloccata non so se vicepresidente Vicaria se vuole io dovrei intervenire quindi mi dovrei dare la parola da sola ma avrei voglia che la presidente mi ascolti rispetto all'intervento che devo fare perché ho delle dissento un po' da da quello che è stato che ha detto lei prima quindi adesso aspettiamo se si ricollega un attimo che altrimenti è inutile per carità posso anche parlare a voi ma io sinceramente volevo volevo che ascoltasse anche lei ora mi sa che è proprio uscita e purtroppo dovrò uscire anch'io perché è vero che vorrei di presiedere la capigruppo ma io ne sono componente Gino stavi parlando? si dico prova a chiamarla si un attimo vediamo un po' non riesco a riprendere la connessione riprova da cellulare oppure riprova da cellulare perché almeno non te perdi gli interventi tra l'altro ok grazie avete sentito no? vediamo se riesce a riconnettersi subito ok no non si Paola visto che tu mi pare che sei presidente facciamo la sospensione cinque minuti così vediamo si va bene va bene si immagino che sia il tuo intervento mi dispiace perché c'eri sola poi deve uscire anche lui che sta in capigruppo credo però immagino Paola siccome sia l'intervento che farai tu sia quello che farà Fulvio sia quello che poi farò io è importante che la presidenta certo sì sì è importante che la presidenta ci sia facciamo cinque minuti di pausa ci rivediamo alle 10.45 10.46 o quantomeno tanto noi rimaniamo collegati appena Patrizia si ricollega mi dispiace un attimo allora la registrazione è appena ripresa facciamo un attimo un rapido appello secondo scrivo che stiamo riprendendo un attimo ok ecco facciamo l'appello per vedere chi è presente alle 10.46 allora De Vivo presente Alle Ori presente Angelini presente Bellassai presente Borrelli Cerisola Cerisola esce 10.48 per entrare in capigruppo grazie a tutti buon proseguimento ciao Marco ciao Marco Baccari presente perfetto quindi sono usciti Borrelli e Cerisola però abbiamo ancora il numero legale per continuare sì sì certo certo io quindi farei parlare c'è c'è iscritto a parlare Paola poi Fulvio e Gino Alle Ori sì grazie presidente dunque io la volevo la volevo scusate che mi era arrivata una telefonata allora volevo dissentire un po' dal discorso che lei ha fatto ultimo discorso che lei ha fatto su per quanto riguarda il piano sociale e per quanto riguarda il convolgimento degli dei dei dipendenti del del municipio del e tutto il resto purtroppo se noi facciamo questo questo documento e nessuno gli riesce a dare corso a questo documento non non arriviamo chiaramente non arriviamo a a a Dama allora scusate ma continuano a chiamare ma non capiscono che attacco proprio perché non posso parlare allora dicevamo io dissento dissento ma le spiego anche perché dissento non perché voglio andare contro il suo pensiero tutt'altro diciamo che questa risoluzione è questa risoluzione che noi andremo non oggi ad approvare ma spero presto se non viene riportato anche sul piano sociale noi probabilmente non potremo dargli corso ma il piano sociale non ci dobbiamo dimenticare che è un piano sociale richiesto innanzitutto dal municipio e che le associazioni in ci debbano essere d'aiuto ma nessuno impone alle associazioni o di sovrastarle le associazioni che in questo momento stanno lavorando ai tavoli e stanno chiedendo e proponendo dei progetti per essere attuati dal municipio quindi nessuno si permette di oltrepassare queste persone per quanto riguarda il discorso del personale sappiamo perfettamente che ne abbiamo bisogno che siamo carenti sostengo anche la teoria del consigliere Alleori che dice non basta che il comune ci manda il personale ma lo dovrebbe mandare già formato in base alle esigenze probabilmente delle varie amministrazioni municipali però questo non ci può non andare avanti perché io credo che questa risoluzione debba essere un lavoro che non è attuabile con un solo intervento ma è una serie di interventi e che quindi va per forza nel piano sociale perché il piano sociale sono dei progetti che vanno avanti da qui ai prossimi tre anni ed è un ed è un nostro progetto che al tavolo ai vari tavoli che sono in questo momento attivi va proposto e noi abbiamo il tempo di farlo a gennaio quando ci saranno le altre convocazioni quindi nessuno sta cercando di sovrastare il lavoro svolto perché non è che questa nostra risoluzione va ad impattare negativamente o va ad escludere altri piani o altri progetti quindi la sua io capisco che quello che lei ha detto che il suo modo di lavorare è rispettare il lavoro degli altri perfetto ci sta ma ci sta anche che anche noi dobbiamo in qualche maniera portare avanti le nostre richieste che poi questa richiesta mi sembra di capire che lei l'abbia portata avanti perché è una richiesta di cittadini non è perché lei si è inventata il piano pebba così e ha deciso di parlarne oggi è perché qualcuno ci ha richiesto di metterlo all'attenzione quindi per quanto mi riguarda io credo che sia un atto dovuto quello di portarlo nei tavoli in discussione oggi anche perché se non lo facciamo noi sicuramente il piano il piano il piano il piano sociale scusate i tavoli del piano sociale poi saranno gli uffici che ne dovranno lavorare e gli uffici parlando io spesso mi trovo a parlare anch'io con gli uffici con la Deleo che si occupa delle tematiche dei diritti eccetera il primo impatto ti dice ah ma no io non so come fare non so a chi dai resti perfetto però l'indirizzo politico è quello che diamo noi non quello che ci danno gli uffici e su questo deve essere chiaro è lampante per gli uffici fermo restando che fanno un ottimo lavoro fermo restando che lavorano più di quello che è il loro dovere ma le priorità le dobbiamo dare noi non certo la Deleo e non certo l'ufficio tecnico cioè su questo dobbiamo essere concordi e chiari quindi credo che noi a breve voteremo questa risoluzione e mi auguro che al primo tavolo utile lei lo possa portare in visione e all'attenzione del nostro piano sociale secondo me è importantissimo quello che stiamo facendo perché ripeto non è un lavoro di un intervento perché non stiamo chiedendo di chiudere una buca che si è formata con la pioggia due giorni fa ma stiamo cercando di fare un abbattimento delle barriere architettoniche non solo con le discese per le persone diversamente abili o che vanno in giro con la carrozzella o con i passeggini per le mamme cioè qui stiamo cercando di fare un municipio almeno nel nostro piccolo un municipio che accoglie anche le persone con disabilità e tutte le disabilità quindi credo che sia una cosa importantissima portare questo documento nel piano sociale e qui chiudo grazie grazie presidente cercherò di essere rapido anche perché poi devo lasciare ma io vorrei parlare un attimo appunto delle contrapposizioni evocate in generale anzi non in generale in particolare ma con due riferimenti specifici prima contrapposizione che personalmente mi stupirebbe è quella che evocava la presidente con la passione che la caratterizza e questo al mio pieno rispetto ma che le associazioni possano percepire la proposta la proposta tra virgolette di inserire questo piano PEBA tra i progetti da realizzare e quindi l'abbattimento delle batterie barriere architettoniche come un'imposizione mi sembrerebbe molto strano ecco io capisco il discorso io arriverò a gennaio e loro avranno già fatto dei lavori ma io mi aspetto di vedere che tra quei lavori e tra quelle richieste e tra quelle priorità loro avranno già stabilito anche questa io credo almeno nel tavolo che si occupa della disabilità quindi non vedo mi sembrerebbe strano percepire cioè constatare che ci fosse una contrapposizione e se anche ci fosse mi permetto di dire avvalorando anche quello che diceva la consigliera Vaccari che noi la riteniamo una priorità è una priorità di legge ma è anche una priorità politica lasciatemi dire è una priorità che noi riteniamo tale e che pertanto va assolutamente inserita nella discussione del piano sociale perché se no tra le tante cose di cui il piano si occuperà rischia di perdersi altro punto sul quale la contrapposizione secondo me è malinterpretata e non esiste quando si parla degli uffici e delle carenze organiche e organizzative degli uffici non si attaccano gli uffici nel senso che è chiaro che la necessità di risorse è oggettiva e chi ha la responsabilità di amministrare se ne deve fare carico però è anche vero che gli uffici si aiutano se le priorità vengono definite stabilite e rispettate da noi cioè dalla politica cioè se agli uffici si chiede di fare tutto in priorità uno tanto per banalizzare cosa che però purtroppo mi pare avvenga è chiaro che gli uffici non possono fare tutto e allora le priorità se le devono stabilire da soli ma questa è una responsabilità che non gli compete a meno che non giustifichino le priorità ricollegandole a interventi inderogabili ma questo in tutti i campi quindi le priorità vanno stabilite da noi e stabilire le priorità significa anche non sovraccaricarli di nuove incombenze che vuol dire non continuare ad approvare cose che non non troverebbero spazio sia dal punto di vista lavorativo organizzativo che anche dal punto di vista economico e questo credo che non sia il caso delle barriere architettoniche che evidentemente costituiscono una priorità però gli uffici si aiutano così si aiutano comprendendo le difficoltà organizzative ma anche lasciatemi dire imponendo le priorità e quindi le problematiche che dal punto di vista dell'amministrazione sono considerate prioritarie non gli si può dare tutto in priorità uno in altri casi mi pare di percepire invece che tutto quello di cui si discute viene considerato priorità uno e questo evidentemente mette gli uffici in una situazione di ingestibilità e quindi li riporta ad appellarsi per qualunque cosa alla carenza organica o alla carenza di risorse grazie poi a un certo punto mi scollegherò magari lo scriverò in chat e le ore prego sì grazie presidente però Fulvio prima di scollegarti perché ho paura che se te scolleghi adesso prima dell'intervento mio cade il numero mi scollegare dammi tempo di intervenire allora io immagino che l'intervento della presidente De Vivo si è riferito in gran parte se non totalmente all'intervento fatto dall'assessore Laurelli perché per quanto riguarda il mio intervento ho fatto solamente uno spaccato della situazione reale cioè che molto spesso e parlavo in senso generale che i documenti che vengono votati dalle varie amministrazioni purtroppo sottolineo purtroppo non sempre dalle buone intenzioni della politica cioè dando l'indirizzo con gli atti dando dei punti da sviluppare poi nella concretezza dei fatti molto spesso non vengono realizzati ma parlavo in senso generale e poi la realtà dei fatti perché vorrei vedere chi mi può smentire su questa mia affermazione lo stesso dicesi per quanto riguardava le risorse umane era un discorso generale ovviamente riguardante in particolare visto che noi parliamo del municipio nono del municipio nono che oltre a esserci una carenza a livello numerico di personale il comune dovrebbe secondo il mio punto di vista non solo preoccuparsi nei casi in cui dà delle risorse umane ai municipi sempre ovviamente insufficiente alla alla realtà alle esigenze reali perché se il municipio chiede 90 unità e il comune che le manda 10 si capisce da solo che è sempre insufficiente rispetto ai reali bisogni anche se come si dice ma io 10 che niente però oltre a questo sottolineavo il fatto che quando mandano anche delle unità di personale devono essere corrispondenti alle esigenze reali del municipio cioè se al municipio gli servono per dire 10 psicologi o piuttosto 10 ingegneri e loro ti mandano 10 astronauti passatevi il termine te l'hanno mandati a livello numerico ma non hanno risolto il problema perciò voglio dire io in prima persona ma penso che posso dirlo anche a nome di tutti i consiglieri nessuno ha mai messo in dubbio anzi abbiamo spesso sottolineato il grande lavoro che fanno gli uffici e il grande mole di lavoro che loro fanno e molte volte anche diciamo francamente anche da anche molte volte la maggioranza fa confusione nonostante questo loro riescono a portare avanti il loro lavoro in modo molto egregio ma questo voglio dire non significa non guardare la realtà dei fatti e come stanno le cose perciò il fatto che uno faccia queste considerazioni almeno parlo per quanto riguarda il mio intervento è sicuramente un aiuto che noi vogliamo dare agli uffici per come diceva anche il consigliere Bellassai per cercare di aiutarli nel loro lavoro perché ovviamente se l'unità del personale sono inferiore alle esigenze del territorio e delle esigenze degli vari uffici del municipio noi li possiamo aiutare cercando di fargli avere il personale idoneo formato e anche a livello numerico di quello di cui necessitano perché io ho fatto anche l'esempio sempre reale del fatto che siamo passati rispetto al passato ad un paradosso prima quando uno diceva bisogna fare quella strada bisogna fare quell'intervento bisogna fare quello e quell'altro mancavano i fondi si diceva sempre i soldi non ci stanno non si può fare oggi ripeto siamo passati al paradosso contrario che i soldi per fare le opere ci sono ma non c'è il materiale umano le risorse umane per poter portare avanti i vari progetti o i vari lavori che necessitano perciò io ho fatto semplicemente uno spaccato della realtà attuale anche in senso generale nessuno ha messo in dubbio e Patrizia il fatto che noi non condividiamo o non rafforziamo il grande lavoro che fanno gli uffici questo mi sento di dirlo pure a voce di tutti gli altri consiglieri che l'abbiamo sottolineato più di una volta del fatto della grande mona di lavoro li ringraziamo sempre del lavoro che fanno e ciò figurati se noi siamo contro questo aspetto grazie e grazie Fulvio che hai atteso e poi mi volevo aggiungere e concludo anche i ringraziamenti ovviamente che abbiamo fatto tutti nei confronti della Presidente di Vivo che porta avanti molto bene i lavori della Commissione questo ovviamente che ne dà atto e i complimenti ovviamente oltre che alla Presidente di Vivo per come svolge i lavori della Commissione lo faccio anche a tutti noi i consiglieri perché voglio dire il buon andamento di una Commissione viene da sì che c'è se c'è una collaborazione totale da parte di tutti i consiglieri oltre che dalla Presidente la Presidente ha sempre coinvolto tutti perciò questo è un aspetto molto importante ovviamente come ben sapete lo stesso discorso non si può fare per tutte le commissioni grazie grazie Gino io sono d'accordissimo con parola per parola con quello che hai detto il mio sfogo era quello di io non posso io non impongo ragazzi non impongo nulla a nessuno e questo è proprio arriviamo proprio a livelli di come come ci si come si si lavora gli uffici tecnici fanno ahimè tante cose a priorità una perché sono stata l'altro giorno la Polizia ordina i lavori di manutenzione delle strade e quello è veramente uno è priorità uno io vedo che lavorano soltanto in quel modo quindi quando io vado in ufficio e dico se ti metto questo pezzo sul tavolo tu lavori quello mi dice lavoro se ho la possibilità di avere un delle persone a cui posso dire fate queste cose io mi seguo e questa è realtà è realtà perché l'ufficio tecnico oggi sa soltanto due persone d'altra parte è necessario perché è un problema di legge e questo lo capiscono anche gli uffici che questa roba va fatta e quindi dobbiamo trovare essere talmente bravi da trovare la via di mezzo per fare quelle cose che Fulvio in qualche riunione tempo fa diceva facciamo le cose normali mi ricordo questa paola normale ripetuta mille volte e questa cosa normale è quella che dobbiamo fare ecco questo diciamo la spiegazione non è che io vado là scusa ufficio nel tempo che hai perso se ti rimane un angolino mi fai il progetto no questa è una bomba che gli stiamo mandando una bomba enorme su cui raccontare queste cose però io credo che io fra alle 11 e 15 c'è un'altra riunione in commissione io anche devo andare scusate ma dovete andare io dico che rimaniamo d'accordo così faccio le correzioni che ci siamo detti in riunione in cui cercherò e poi ve lo rinoltro e non so se faremo la prossima settimana una riunione congiunta perché Fulvio insiste per approvare questo documento definitivo una riunione congiunta che durerà pochissimo perché a questo punto avendo lo discusso di qua e avendo la discusso di là si tratta semplicemente di votare un documento se riesco a farlo brevissimamente due cose uno non è che siamo noi che andiamo dagli uffici a dirgli dovete fare questa cosa perché noi nel documento stiamo impegnando degli assessori e sono loro che sono la nostra parte operativa e non certo lo dobbiamo fare noi come consiglieri o come presidenti di commissione eccetera secondo spero che tu nelle correzioni che farai impegnerai così come ha detto l'assessora Laurelli le due assessori le due assessori competenti in materia il rispetto chiaramente agli uffici gli va dato e sono la prima a dare rispetto ad entrare sempre in punta di piedi però è vero anche che abbiamo fatto notare non solo io ma anche Fulvio e anche Gino che le priorità agli uffici vanno date anche perché loro erano abituati in questi ultimi cinque anni a darsele le priorità quindi dobbiamo in qualche maniera rieducarli in questo e cercare di far capire che chi è stato eletto dai cittadini non sono stati certo loro che sono stati assunti in una pubblica amministrazione ma siamo noi che dobbiamo dare gli indirizzi politici che poi tramite noi tramite i nostri assessori che comunque ci trovano mi sembra di aver capito su questo discorso assolutamente concordi con quello che stiamo scrivendo altrimenti se questo è scusami Patrizia ma è inutile che noi portiamo sta risoluzione in votazione in consiglio se sappiamo già che gli uffici ci diranno non mi dispiace non te lo posso fare perché ho altre priorità questo è chiaro vale per tutto in generale vale per tutto l'assunzione di responsabilità politica è proprio questa se ci si rende conto che gli uffici sono saturi e l'amministrazione non riesce a fare altro bisogna avere il coraggio di dire fermate il mondo fermi tutti e ricominciamo da capo esatto perché altrimenti i nostri lavori finiscono i nostri lavori far finta che le cose possano essere sempre prese in carico non è così in qualunque organizzazione mica solo qui a maggior ragione bisogna mettere questo argomento nel piano perché questo argomento ci impegnerà gli uffici non noi impegnerà gli uffici per un periodo abbastanza lungo tutto qua e ho concluso grazie a tutti Gino l'ultimo intervento sì grazie Patrizia no visto che te la vaccare e altri fate parte della maggioranza ovviamente dovreste con forza andare dal presidente del municipio e dirgli cara presidente anche se lei ovviamente lo sa e ne è ampiamente a conoscenza avendo fatto richiesta di personale risorso umano per la necessità che serva al municipio però la presidente dovete sollecitarla non solo a scrivere al comune di Roma perché purtroppo ripeto l'esperienza mi porta che non è che scrivere una lettera o fare un atto risolva il problema la presidente dovrebbe andare dal sindaco o che chi per lui sbatte i pugni sul tavolo e dire caro sindaco caro capo di gabinetto chi per lui e dire io ho necessità di queste unità con queste specificità perché se no io non posso mandare avanti il municipio e siccome io come presidente del municipio rappresento il municipio io ho la necessità di avere queste persone perché tanto nella vita sappiamo tutti di trattare che sappiamo che quello buono o quello che scrive basta non se lo fida nessuno uno purtroppo si deve far sentire e per farsi sentire ripeto dal punto di vista mio poi della maggioranza nonostante il presidente ne sia ampiamente a conoscenza delle esigenze del personale che serve al nostro municipio però non solo scrivere una lettera dove si richiede del personale andare di persona dal sindaco e sbattere i pugni e dire caro sindaco io per mandare avanti il municipio visto che sono stato eletto come lei dai cittadini voglio dire io devo dare una risposta e siccome la faccia è la mia se mi permette io per mandare avanti il municipio ho bisogno di queste persone ho bisogno di 90 non me ne manda 90 ma non me ne può mandare manco 10 o 20 che tra l'altro possono pure non avere competenze in merito alle esigenze che io ho bisogno come municipio da 90 me ne deve da 50 60 se no io il municipio non lo posso mandare avanti questa è la mia visione concreta e reale scusatemi grazie grazie Gino io a questo punto chiuderei la riunione perché devo andare anche in un'altra e quindi ci riaggiorniamo ok bene a dopo al consiglio prossimo arrivederci allora ci siamo ci siamo ci siamo alle 11 e un quarto va bene va bene Caterina grazie grazie perfetto arrivederci a tutti arrivederci buona giornata arrivederci grazie